ci sta trollando trollolololololol no nel senso sono già dentro del puntatore qua c'è un po' di loot da prendere volendo eh una cassa a testa dove volete andare? non lo so aspetta fammi capire un attimo dove siamo qua ci passa una pattuglia di scavo davanti oltre a spararci i player dall'altra costa ma sai che quella pattuglia di scavo non l'ho mai trovata? ah io si spesso ma perché a volte le ingaggiano i player dal bosco io l'ho beccata anche uscendo una volta con tom passiamo a bordo a destra così non sbagliamo andiamo va no tagliamo dritto per dritto come vuoi ma tu devi farti sparare eh un pochino sì ma vorrei anche che sopravvivere per raccontarla ma sei senza zaino? perché? perché non ne usciremo vivi? eh devi dimmelo prima io non levavo lo zaino davanti scato davanti è la? è sulle macerie hai sparato? no mi ha preso chi è che sparava silenziato? lo scavo ragazzi l'ho anche chiamato scavo davanti player player ma cristo dio preso uno preso due boh che bello tutto a zero sei vivo? si ti servono cure? no le ho le ho questo non è uno scavo livello 7 c'è un'armatura corazzata questo qua uguale alla mia e c'è anche lo zaino ne hai il rig corazzata sto eh? si beh a 30 su 74 attento robbè qui c'è l'altro player siete voi qua sotto? sotto di me? e credo che sia stefano che si cura eh si mi butto qua a terra e il metto ne avevi sta eh? se avevi quello di metallo ti serve un ifac? uè 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 ci sparano da dove? da destra a destra si da dietro sei vivo? si il tipo è vivo o morto? non lo so è scomparso in mezzo ai cespugli dopo che li sparavo roby allargati a sinistra e prendilo dal fianco io ricarico cambio caricatore quanto dietro era? oltre la strada o prima della strada? oltre la strada secondo me oltre ma era un altro questo eh? ma lì oltre la strada da dove siamo arrivati non c'è un cadavere c'è un cadavere? lo stai vedendo? non ho capito si ok allora probabilmente l'ho fatto chi era questo? tu? è un io io è un cadavere si allargati roby occhio dietro si l'ho fatto allora cos'è? un bap scub normale? si ok tutto tuo mi ricarico il caricatore un attimo mi ricarico il caricatore un attimo a vita vado a prendere lo zaino del player si era lo zaino stupido quello esercita si si beh va benissimo meglio di un cazzo in culo questi qua stanno sparando da sotto il roccione grosso eh se vi interessa si quindi dobbiamo allargarci perchè altrimenti quelli ci beccano da qui eh dove sono morti i tipi? in mezzo alle roccette ah eccolo qua ah la saccoccia del lol e te l'ho detto che era quello stupido delle scarpe saccoccia scarpe? si è quella che quando portavi le scarpe a scuola dai si vede che sei ricco che sono? ricco? qui c'è un altro vettore c'ha una rig decente se la vuoi eh mmmm armatura? no ah no è vero chi è in mezzo agli alberi? io io no ok bom bom andiamo in faccia sti qua che sparano no hai controllato le tasche dei PMC? chi è che arriva qua? ho chiesto no no io sono si si ti ho visto no 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 Siete voi che correte? Sto correndo io per togliermi dall'aperto Dove sei ste? In più avanti vita Qui c'è la cassa da luttare Ho perso Stefano Sono alla cappanna di Jager Minchia Più o meno Quindi sei già zona aereo? Sì Io sono il carro caduto Quindi sono molto più indietro di te Beh io sono indietro Sì sei due passi da me Sono vicino a te, sì Sì Ok Io sono in mezzo alle ruine dell'aereo Movimento davanti a noi Robby Dove siete? Un po' più indietro Stiamo andando verso il muro Superando il canyon Ho visto movimento da destra verso sinistra Può essere uno scav? Può anche no Scav Dietro la roccia di sinistra Qua vicino a noi? Sì Sì Dove è punto il laser? È scomparso là Spengo il laser Eccolo là dietro Preso C'è un vepre Un casco nero Se vuoi luttarlo Chi è che corre? Io Stiamo andando al cadavere? Uh Tanica di benzina Sì Lì trovi anche batterie per auto Sono Dove c'è il fumogeno verde Fumogeno verde Sì Dove c'è l'estrazione? Sa che non so dove sia Sparo un colpo Ok Uh Altra tanica di benzina Chico Ok Se vuoi prendergli l'arma almeno Uh Qua c'è uno stash Non lo sapevo Non conosco gli stash di sta mappa Vodka Salmone Venda che mi può essere utile Fuel conditioner M28 Hai fatto tu legno Robby? Sì ma No forse un pezzo di legno Radice cose così Wow Dove siete? Stiamo arrivando Siamo alle rocce grandi Che hai Sulla destra tipo Cioè qualcuno dietro Spara gli spara Ah no è Stefano quello Chi era? Stai dove sei? Dietro un albero Ok era lui Qua dietro? Sì sì Ci ha visto Ci ha visto E' lui Ok La marmotta Minchia io ti facevo Ti facevo ancora al All'aero Dai guarda che qui l'uscita verde è Ah io non lo so che c'era il fumogeno qua Qui non c'era prima eh C'è sempre stato Paolo Sì sì A random Il fumo? Io sapevo il bunker Ci sono anche uscite Il bunker è anche un'uscita Eh sì Ma non sapevo che ci fosse il fumo Capì Serve la chiave per questo Boh E' aperto Quindi boh Eh ma c'è la porta C'era una tannica di benzina qua E un'altra qua dentro Proprio assoluto qua Mi sa che qui è già uscita gente però Ti fa estrarre? No Fa estrarre quelli che sono usciti dall'altra parte Che sono partiti dall'altra parte Andiamo fuori Non c'è niente Siete dentro il bunker là? Sì stiamo uscendo Ok Ma saranno delle frasche dentro di là? Eh ghiaia Ha vetri rotti Ok Sedici minuti? Ma Ma Se muoio Prendete lo zaino Mettetevelo nel vostro direttamente Ok Hai le tanniche? Sì ci sono 160k di tanniche Ti conviene metterne una nel safe se non hai roba di particolare valore? Eh beh Almeno una te la porti via Vabbè ho un CMS 1 su 5 lo lancio per terra No aspetta E poi lo riracoglio ovviamente Esatto esatto Merda anche il mio è 1 su 5 Qua nella scia si possono trovare batterie delle macchine o robe strane in teoria Sì sì Infatti pensavo che le avessi trovate qui le tanniche Ah un motore Ci sta? Eh sì Devo buttare giù il ciamme e il coso però Dicordo Eh io qua c'ho vodka full conditioner Sì sì Beh tanto non penso che mi butti una terra degli arti adesso Ecco L'ultima parola è famosa Hai roba nera addosso? Cioè hai arti neri? No Curati tutti Ne avevo tre Minchia Ne avevo fatto stomaco, braccia Eh Braccio, stomaco e gamba sinistra Roby dove sei? All'aereo Non siete anche voi qua Siamo alla coda dell'aereo dove c'è la scia Io arrivo a stare da testa dell'aereo Arrivo Ok Questo era dietro No, davanti Stanno andando a estrarre la macchina sai Dove sei Roby? Alla mia destra Ok andiamo allora Ok andiamo allora Scavo a per lato Ok andiamo a fare la macchina Ok andiamo a fare la macchina Ok andiamo a fare la macchina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sì l'ho sentito ora Mi ha laggato Uno down Sento passi Fermo Roby Fermo C'è qualcuno che si gira qua attorno O è sopra il cecchino sopra? Sì io che sto muovendo Io sono fermo adesso Fermo Fermo Ma c'è qualcuno tipo sopra di me Guarda verso l'alto Sì la roccia sopra Ha mirato Ha smirato Eh ci deve essere qualche PMC che camperà sulla roccia E cosa vede? Scavo morto Tutto il centro mappa Vedo la qua sopra Sì Eh ma lei non riesco a... Roby hai lo zaino rosa? No Scavo down Ho lo zaino arancione L'attacca Sento passi qua Chi è che si sta avvicinando? Siete fermi? No fermo Fermi Tmc down Ce n'è un altro di sicuro Chi è? Chi è che spara? Tmc down Chi è che spara? Tu o lui? Sta ucciso Ok ok Però devo curarmi Chi è che si muove? Io piano piano Io mi sto curando Sono disteso e mi sto curando Mi asso voglio le braccia Zitto 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 Come hai fatto a curarmi le braccia? Sono nere? Sì Eh devi... Cosa serve? Il CMS Non ce l'ho Vediamo se riusciamo a portartene io Uno io e ste Chi è che si è mosso? Io 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 Rob Sei sempre tu? Sì? Robi rispondi Sì 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 Sto lottando Io Livello 43 Anch'io Arma uguale alla mia Me la prendo C'ha un'adar C'ha una rig corazzata Messa male Un 22 Un nuovo verso di voi Dove siete? Eh... Alla reccia più a destra in pratica Ok Chi è dietro di me? Io Ok Abbiamo 8 minuti ragazzi Devo luttare a vedere se la medici Oppure o qualcosa del genere Questo Allora Stai poi dimmi se Sto guardando Dimmi Ti sei preso l'elmetto? Sì Lo vuoi? Tieni No va bene Il mio interno No no Lo ridà È che mi prendo la rig La sua rig Ha tante cure dentro Se vuoi A me serve il coso Per farmi mettermi a posto le braccia No Quelli lo tengono tutti nel coso Nel punch Vai vai Prenditi Prenditi Le robe Sì Ma il fatto che adesso io Senza braccia Cosa faccio? Emilia è la cazzo di cane Minchia questo ci aveva due batterie nello zaino Beh basta Eh cosa posso No stai prenditi quella Quella? Quell'elmo Ah lo prendo? Prendilo Prendilo Casualmente Un tiro su di le cuffie Intanto Tanto ho spazio Zitto un po zitto Cermina? Io io 15.000 rubli Aveva sto scavo addosso E qui c'è l'altro PMC Livello 22 Sei minuti per fare tutta la mappa eh O se c'è la macchina Difficile che ci sia ancora la macchina Però Ci proviamo Devo aver buttato via i miei rubli Bene Ne ho io da darti Andiamo Dove siete? Da dove ho ucciso Roby Così Eh non so dove Di fronte Ok Ok allora Ho fatto qualcosa Il cadavere? Sì Vieni qua che ti metto i soldi nella tasca 5.000 era vero? Mi parli sì La prima tasca di questo qua Lo scavo Lo uccido? Sì 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 Stai bene prenderti i soldi Arrivo Ah l'hai messo Ah in questa sta Sì Andiamo dai Tasca 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 Ci sei Roby? Guarda Sì ci sono La macchina c'è? O non c'è? Sì c'è Andiamo veloce Dobbiamo arrivare e mettere i soldi Tutti assieme Dove siete andati? Segui il muro Dalla montagna Sempre lungo Lungo Sì Lungo il muro Ok vi vedo Siete Al muro Sì Ok arrivo Ci sei Roby? Andiamo un secondo Sono all'inizio della parete Del muro Sì Dai mettiamo i soldi 3.000 3.000 Mi sparano? C'è chi No sopra la collina La montagna Proprio sopra Sopra L'hai fatto? Down sì Ok Ma avete messo i soldi anche per me Perché mi sta venendo fuori stazione Le hai messi tu no? Io vedo tre verde C'è anche io Ok a posto Sì sì a posto Qui non le ho messi i soldi Io sì Io anche io Fotte te ne è meglio così Ma ce li ha i soldi sì? Sì sì ce li ho Sì sì le ho presi Fatto Ma hanno abbassato il tempo qua Perché non siamo stati dentro 50 minuti No 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 È bassissimo qua il tempo Bene sono contento Sono riuscito a uccidere il mio primo personaggio A livello più alto di me Bella Era un 22 Ho fatto 8k e 2d exp 8k Io ho ucciso 8 cose Di cui 4 pmc Ho ucciso 2 pmc 4 scav 2 pmc 27 7 22 43 Io 3 scav Io uno scav e un player Sei headshot Ragazzi scav davanti Sei tu quello No c'è uno scav L'ho detto scav davanti E quello mi sparava E nessuno mi copriva Ma io non li vedevo Ed era il pistolero Che sicuramente ti ha fatto male E dietro ci aveva il mosinaro